Musica per mano, il progetto dell'orchestra giovanile della diocesi dei Marsi, si è aggiudicato il bando nazionale Idei Movimento, giunto alla sedicesima edizione promosso dal Movimento Lavoratori dell'Azione Cattolica. Il progetto è rivolto a ragazzi con fragilità e disabilità. È un progetto unico in Abruzzo, ha detto il Vescovo dei Marsi, Monsignor Giovanni Massaro. I giovani sono una risorsa e vanno aiutati ad amare la vita. Un progetto che in qualche modo vede innanzitutto il coinvolgimento dell'orchestra giovanile della diocesi dei Marsi, costituita da 30 elementi, tutti ragazzi dalla terza media al quinto anno di scuola superiore, e il coinvolgimento del coro, coro Mani Bianche, costituito da ragazzi normodotati e ragazzi diversamente abili. Un progetto pertanto finalizzato non solo a valorizzare le capacità dei ragazzi, i ragazzi hanno bisogno di sentirsi apprezzati, bensì anche quello di creare in effetti una cultura inclusiva. Stare con ragazzi diversamente abili significa imparare davvero a riconoscere quelle che sono le nostre fragilità, a capire che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Crediamo fortemente che la condivisione sia un forte fattore di crescita, soprattutto per ragazzi che spesso si trovano ad affrontare fragilità o disabilità che li vedono isolati, ha commentato la musicologa Francesca Piccone, responsabile del progetto. Andiamo oltre l'integrazione, andiamo verso e nell'inclusione. Coinvolgeremo tre associazioni sul territorio marzicano, non andremo ad intervenire soltanto su Avezzano, ma anche nelle periferie, andando a coinvolgere diversi tipi di associazioni che operano a Luco, a Celano e ad Aielli e ad Avezzano, quindi contaminazione, associazione di promozione sociale, Anfas, Aielli e Celano e Avezzano con IP di Marsica. Andiamo ad intervenire su diversi tipi di fragilità e questo attraverso l'intervento di una musicoterapeuta, quindi una figura, una professionista specializzata, che settimanalmente andrà ad incontrare ragazzi e a formare questo coro di mani, di mani bianche, di ragazzi che indosseranno questi guanti bianchi per cantare davvero e per segnare all'unisono. La cosa importante di questo progetto è che permette non solo di formare questo nuovo coro sul territorio, ma anche di continuare l'attività avviata l'anno scorso dell'orchestra dei ragazzi senior. Tra i partner del progetto è l'Università di Teramo, Paola Besutti, presidente del corso di laurea d'AMS. Un progetto come questo dell'orchestra dei giovani senior e ora ampliato al coro Manos Blancas, Mani Bianche, è per l'Università un banto parternariale, lo colloco sicuramente tra i progetti più interessanti, più vivi, più forti che abbiamo in qualche modo fiancheggiato con il nostro corso di laurea d'AMS, con la facoltà di comunicazione già nel 2021 e ora in questo 2022 che si profila così importante. Diciamo che il valore aggiunto del progetto è anche quello di porsi il problema di comprendere, comprendere l'impatto che vuol dire studiare, vuol dire attraverso anche l'osservazione di questi giovani capire come un progetto di questo genere cambia, cambia le relazioni tra chi lo vive, tra i giovani e il territorio, la qualità del loro tempo.